E quando una giornalista francese ha chiesto ai due cosa gli avete detto, che assicurazioni avete avuto sulle misure italiane per la crescita, avete fiducia in Berlusconi? Questa è stata la reazione immediata, fate attenzione a come i due si guardano. Noi eravamo insieme al colloquio, noi dice Sarkozy abbiamo fiducia nel senso di responsabilità delle autorità italiane, politiche, finanziarie ed economiche.